Perché gli studi clinici decentralizzati stanno diventando così importanti e così utili per il settore farmaceutico e in generale per tutto il settore della ricerca clinica? Ne abbiamo parlato con Chiara Paglino, direttore medico di Berger Ingeleim, che abbiamo incontrato qui a Milano per la sesta edizione del Digital for Clinical Day. Dottoressa Paglino, uno dei temi importanti dell'evento di oggi è stato quello degli studi clinici decentralizzati. Per i non addetti ai lavori che cosa sono esattamente? Cosa vuol dire decentralizzati? Gli studi clinici decentralizzati hanno sostanzialmente rivoluzionato e fatto evolvere il mondo degli studi clinici. Gli studi clinici nella forma tradizionale prevedevano sempre l'accesso del paziente al centro clinico, quindi all'ospedale. Questo comportava fare visite, esami di controllo, recarsi al centro ospedaliero con un impatto ovviamente sulla propria qualità di vita e anche quella dei caregiver. Quello che cambia oggi con gli studi clinici decentralizzati è che una serie di queste attività possono essere fatte a domicilio, quindi possono essere fatti prelievi, misurazione di quelli che sono i parametri biologici, ma anche visite di controllo e contatti con il centro clinico direttamente dalla casa propria. Quindi questo ovviamente va a tutto supporto e beneficio del paziente, ma anche del centro clinico che può gestire in maniera più vicina il paziente pur essendo a distanza. Gli studi decentralizzati si possono utilizzare anche nel caso degli studi randomizzati e controllati che poi sono quelli più importanti per stabilire l'efficacia e la sicurezza di un farmaco? Certamente sì, perché consentono comunque di raccogliere i dati in una maniera strutturata, solida e quindi certificata e possono essere utilizzati in tutte le fasi di vita di un prodotto in sviluppo, compresa l'ultima fase che è quella degli studi clinici controllati. Che garanzie ci sono che i dati vengono raccolti con la stessa precisione con cui vengono raccolti in ospedale? Quindi il paziente che è lasciato un po' da solo naturalmente, che strumenti ha? Quali sono i supporti che li mettete a disposizione? Il paziente in realtà non è lasciato da solo, quello che cambia è semplicemente l'utilizzo di un mezzo digitale, ma i contatti con il centro clinico, i contatti con lo staff quindi dell'ospedale hanno la stessa identica frequenza, anzi a volte sono anche intensificati. Il paziente ha a disposizione delle piattaforme digitali in cui può inserire quelli che sono ad esempio i patient reported outcome, cioè i dati relativi alla propria qualità di vita e poi in automatico vengono inseriti i parametri biologici che vengono rilevati e anche quelli che sono gli esiti degli esami di laboratorio strumentali. Quindi nulla cambia per quanto concerne l'affidabilità del dato clinico raccolto. perché i decentralized clinical trials vengono studiati per garantire quel tipo di aspetto. Senti, i vantaggi ce li ho un po' già detti, ma quali sono quelli principali? Sono i vantaggi per il paziente che può essere molto ben seguito rimanendo a proprio domicilio, sono i vantaggi per i care giver che possono continuare ovviamente ad aiutare i propri parenti, amici, ma lo possono fare diciamo così spendendo meno tempo e poi c'è il vantaggio anche per i centri clinici perché non dimentichiamo che in questo modo si possono ridurre il workload dai centri ospedalieri e quindi forse avere un impatto anche sui tempi della sanità. Ecco, c'è anche un'accelerazione dello studio clinico, cioè si possono fare con maggior velocità visto che il tempo è un fattore cruciale nello sviluppo dei farmaci. L'accelerazione degli studi clinici passa attraverso molti elementi diversi, questo è uno di quegli elementi, non necessariamente da solo però può bastare ad accelerare lo studio clinico, però è un elemento che può impattare. Senta, quando utilizzare lo studio decentralizzato? In che fase della vita del farmaco ha più senso utilizzare questo strumento nuovo? E come ci ha spiegato lei, molto interessante. Come dicevo prima, è un'evoluzione della modalità con cui si fanno studi clinici e può essere applicata un po' in tutte le fasi dello studio clinico. Ovviamente maggiore è il carico, per così dire, di test, esami strumentali che il paziente deve effettivamente fare e meno ha un impatto, una decentralizzazione. Quindi ha più senso probabilmente nelle fasi più avanzate dello sviluppo dei farmaci, le fasi 2 e le fasi 3. Sì, l'ultima domanda. Lei è a capo della direzione medica di un'azienda molto importante che è Berger Ingelheim. Voi a che punto siete con l'utilizzo dei trial decentralizzati? Allora, l'utilizzo dei trial decentralizzati è qualcosa che già fa parte della nostra realtà in Berger, così come in molte altre aziende farmaceutiche. Quindi utilizziamo questa modalità di ricerca. Ovviamente l'innovazione digitale è decentralized clinical trials, ma è anche molto e molto d'altro. Quindi le aziende farmaceutiche si preparano da molti punti di vista a cogliere sia le opportunità che il digital può offrire, ma anche, come dire, a superare quelle che sono le sfide che il nostro contesto, anche quello locale, gli pone. Quindi è un lungo percorso. I decentralized clinical trials sicuramente sono stati un giro di boa, per così dire, nell'innovazione digitale applicata alla medicina. Grazie a tutti.